uè non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi settimana numero 5 di fortnite in questa season 8 siamo arrivati a metà ragazzi il premio di questa week è la stella segreta quindi un livello extra del pass battaglia alle mie spalle state vedendo la schermata di caricamento che nasconde nella parte in alto a sinistra la posizione corretta della stella segreta quindi ragazzi ci portiamo in game e come vedete sono esattamente nella posizione che viene indicata dall'immagine e secondo me guardando l'albero qua davanti come vedete siamo dove c'è la lava del vulcano la stella segreta potrebbe apparire secondo me cosa fa john si butta giù john di prepotente che baghera qua io credo ragazzi che la potremo trovare o qua sopra questo coso se andiamo a vedere l'immagine guardate è molto chiaro che si trova più indietro di quest'albero che vi sto facendo vedere quindi secondo me o è qua o è la più in fondo o è comunque in questa zona vicino a questi alberi ragazzi mi raccomando parte la caccia al tesoro terminate tutte le sfide e prendetevi la stella segreta io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao iscrivetevi al canale